Allora, questo video dovrebbe essere una dimostrazione, un tutorial cosiddetto, di come funziona il programma IRIS, programma per l'elaborazione delle immagini di astronomia. Supponiamo che noi non sappiamo assolutamente nulla, quindi cominceremo proprio dall'inizio. Prima di cominciare, e poi lo vedremo nello svolgimento della spiegazione, bisogna creare una cartella nella quale IRIS, il programma IRIS, inserirà i documenti che elaborerà. Nel mio caso, io l'ho chiamata IRIS lavoro e l'ho collocata sulla scrivania del computer. A questo punto, apriamo il programma IRIS, che sta in questa cartella, eccolo qua, IRIS, e nella schermata principale si vede questa finestrella con chiamata Seed Visualization, che ci servirà per aggiustare appunto i livelli per la visualizzazione. Dunque, noi abbiamo già creato una cartella per permettere ad IRIS di lavorare, e gliela dobbiamo segnalare, gliela dobbiamo indicare. Quindi apriamo il menu fichier, e scegliamo la dicitura Reglage. In questi Reglage, sentiero, cammino o percorso per trovare la cartella di lavoro, noi l'abbiamo già creata, gliela indichiamo e poi facciamo OK. Dopodiché, con questa iconetta, diciamo a IRIS che tipo di macchina fotografica adoperiamo. Nel mio caso è una 550D e questo è il settaggio adeguato. Ci sono altre possibilità e poi ognuno sceglie ciò che ha. E naturalmente diciamo OK, e quindi abbiamo assolto le due prime funzioni fondamentali. Per poter procedere alla elaborazione delle immagini astronomiche, dobbiamo fare un pretrattamento delle immagini, nel quale fondamentalmente si toglie il rumore di fondo accumulato dai sensori CCD. Allora, se noi vediamo la finestra del pretrattamento, dobbiamo indicare un nome dei documenti che noi avremo inserito e lo vediamo fra poco, dobbiamo indicare l'offset che una volta elaborato viene automaticamente inserito in questo spazio, dobbiamo elaborare un dark che lo stesso verrà inserito nello spazio, un flat, un cosme che il programma elabora da solo, un nome dopo l'elaborazione diverso ovviamente da quello che noi inseriamo come dato iniziale e il numero delle immagini da trattare. In questo caso annulliamo. Allora, si inizia facendo un offset, cioè si va sul menu foto digitali, foto numeriche, si sceglie decodage des fichiers RAV, cioè decodifica dei documenti RAV o RAW, che dir si voglia, scompare la finestra di Iris e compare quest'altra finestrella, nella quale noi trasciniamo i nostri documenti. Allora, supponiamo di avere un certo numero di offset, che noi chiameremo OFF, li trasciniamo in questa finestra e poi clicchiamo sul pulsante CFA. Mettiamo di aver messo 50-60 offset, dopodiché il programma li metterà nella cartella che noi abbiamo predisposto, nel mio caso IrisLavoro. Poi cancelliamo la lista e inseriamo i dark, che noi chiamiamo DK, DK che serve per indicare il dark, un certo numero di dark, lo stesso clicchiamo sul pulsante CFA e i nostri dark verranno inseriti nella cartella IrisLavoro. Generalmente si cancella la lista e poi si inseriscono, in questo caso ce li ho messi nella cartella prova PIO, ci vengono messi i documenti delle immagini che noi abbiamo effettuato per poter essere elaborate. In questo caso io ho ridotto il numero di immagini a 4 e abbiamo una NGC 69-60 che poi è la nebulosa velo che si trova nella costellazione del Cigno. Selezioniamo tutte e quattro le immagini, le mettiamo nella cartella Iris, chiudiamo questa finestra, io per semplicità chiamerò queste immagini N, poi cliccando su CFA il programma le trasforma il RAV nel formato PIC che è il suo formato di lavoro e le inserirà nella cartella IrisLavoro. Cancelliamo la lista, chiudiamo la finestra e qui esce fuori quest'altra finestrella numero di immagini convertite numero 4. Se noi apriamo IrisLavoro troveremo questi quattro documenti che si chiarirà adesso nella spiegazione che già esistono e poi abbiamo il nostro N1, N2, N3, N4 che sono le immagini da elaborare. A questo punto apriamo anche la finestra di dialogo con Iris che è questa qui e ci permetterà appunto di andare avanti con l'elaborazione. A questo punto la prima cosa da fare è creare un offset. Si va sulla voce foto digitali e si dice al programma di fare un offset. noi avevamo introdotto un numero diciamo completo di offset da elaborare e che abbiamo chiamato off con il trattino basso che io uso sempre per separare il nome del documento dal numero progressivo. Il numero di immagini sarà quello più alto possibile anche perché un offset è un'immagine al nero tipo un dark con la differenza che il dark deve avere la stessa durata e lo stesso ISO gli stessi ISO della foto o delle foto da elaborare mentre l'offset è la stessa cosa ma con il con l'esposizione più breve possibile consentita dalla macchina fotografica ora gli offset generalmente si fanno una volta sola perché non dipendono appunto dalla durata dell'esposizione dalla temperatura dall'umidità eccetera eccetera e quindi la maggior parte degli astrofili hanno una serie di offset per ISO 800 1200 1600 3002 e così via però ovviamente bisogna farli all'inizio e noi stiamo simulando che ne stiamo facendo un numero sufficiente di offset supponendo che si fanno esposizioni massimo 50 60 esposizioni si mette 60 perché noi abbiamo in questo caso 60 offset quindi adesso simuliamo naturalmente io annullo però noi abbiamo introdotto nella finestra di conversione 60 offset gli diciamo ok che in questo caso è annullare e il programma ci fa 60 ci elabora le 60 immagini alla fine della elaborazione dobbiamo salvare il nostro documento quindi save offset lo salviamo e abbiamo il nostro offset lo stesso procedimento lo facciamo con il dark fare un dark nella finestra del fare dark viene già segnalato l'offset che noi abbiamo fatto e che il programma registra noi abbiamo introdotto i nostri dark con il nome dk trattino basso l'offset già ce l'abbiamo e supponiamo che noi abbiamo che ne so la stessa cosa 60 immagini di dark che noi vogliamo elaborare gli facciamo ok che in questo caso annulliamo perché è una simulazione e quindi il programma ci elabora le nostre 60 immagini dark a questo punto gli diciamo save dark una volta fatto questo si può procedere con il seguito però siccome noi fino ad ora abbiamo simulato e io vi avevo detto prima di avere nella cartella elaborati già i dark i flat e gli offset vediamo come funziona con i documenti che io ho già predisposto invece di save dark gli diciamo load dark che sarebbe il dark che io avevo già all'inizio naturalmente Fidel ogni tanto protesterà e lo sentiremo abbagliare abbiamo caricato il dark e lo possiamo paragonare al dark che noi abbiamo appena elaborato virtualmente sul dark scriviamo stat cioè le statistiche le statistiche scusate un secondo le statistiche ci danno questi numeri cioè ci danno la media delle immagini e ci danno anche il sigma a questo punto bisogna lavorare con una formula prestabilita la quale formula prestabilita prevede che si moltiplichi il sigma in questo caso 107.1 per il numero 16 quindi 16 per 107.1 107.1 è uguale e abbiamo 1713.6 a questo risultato dobbiamo aggiungere la media che in questo caso è 15.4 quindi più 15.4 è uguale 1729 questa è un'altra formula che bisogna ricordare scrivere imparare a memoria con questo 1729 noi lo applichiamo al find ot quindi find trattino basso ot spazio cosme 1729 facciamo enter e abbiamo che il numero dei punti caldi dei punti non so come si chiamano in italiano sono 1563 su questo risultato noi scriviamo fill cioè riempi fill con doppia L 20.000 20 1 2 e 3 e avremo un'immagine completamente bianca che noi salviamo con il nome flat save flat a Grazie a tutti.